rosico 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 e rosico e rosico e rosico e rosico e rosico rosico tantissimo oggi ragazzi rosico tantissimo napoli alla svelona 1 a 1 ragazzi 1 a 1 dopo il gol di simeone che mi aveva preannunciato una partita molto tosta il pareggio della d di lorenzo mi aveva fatto sperare che il napoli avesse riportato le cose alla normalità sai 1 a 1 poi 2 a 1 poi 3 a 1 4 a 1 come siamo stati di fare e invece no invece no tutto il resto della partita è stato una sofferenza una sofferenza non c'è stato il predominio napoli come speravo io c'è stata molta molta difficoltà a fare tutto in particolare si è sentita la mancanza di culibali in difesa ma in particolare l'attacco che non riusciva a sbloccarla e il palo di osimen e le parate di montipò e di qua e di là e non riusciamo a sbriccarla io oggi rosico perché l'ella svelona in 9 è riuscito a portare a casa un punto dal san paolo e noi adesso sì è vero abbiamo comunque fatto punteggio oggi non è che alla fine se ne siamo tornati ce ne siamo tornati a mani vuote no però adesso dobbiamo sperare che il milan perda con l'inter nel derby di stasera il derby della madionina e niente se non succederà il milan ci ha scavalcato in classifica e rosico per questo rosico perché ora è tutto nelle mani del milan e mi fa abbastanza incazzare questa cosa perché il napoli secondo me ha comunque giocato bene oggi ha comunque avuto a che fare con un verona che è una squadra tosta tantissimi falli sul finale tanto è vero che ci sono state due espulsioni tante proteste così via ma non me ne frega niente sinceramente io ho visto qualche calcio di rigore che l'arbitro non ha dato sì sì io l'ho visto non lo so voi però comunque non mi sto a fare i drammi per queste cose comunque niente ragazzi partita che mi fa tanto rodere perché come detto era una partita secondo me non impossibile da vincere e noi non l'abbiamo vinta tutto qua detto ciò comunque siamo ancora a zero sconfitte questo è il secondo pareggio su 12 partite di serie A credo è 12 11 adesso non ricordo esattamente quante siano le giornate ma è tanta roba comunque come risultato non è assolutamente da fare un video sfogo infatti questo è un video rodimento più che altro però ad ogni modo secondo me il napoli ce le ha le capacità per andare fino in fondo abbiamo capito bene quindi noi ci vediamo la prossima ragazzi iscrivetevi al canale commentate questo video e lasciate un like e io vi saluto